Il settantesimo è l'esultanza dei milanisti. Qui siamo al ritorno a Manchester il 15 maggio del 69. Il Milan in attacco ma sarà protagonista a Cudicini in questa partita con il Manchester che nel secondo tempo dopo aver premuto a lungo va in gol con Charlton, Bobby Charlton con questo gol al settantesimo. Finisce 1-0, passa il Milan in finale. Finale 3-0.